Buonasera a tutti, so che alcuni di voi hanno ironizzato sul fatto che io credessi fosse venerdì, rido perché in realtà è una risata, devo dire, molto amara perché, come ho già detto purtroppo in diversi video, mia madre si è ammalata in tenera età di Alzheimer, per cui questi sono segni purtroppo non particolarmente confortanti, io con gli anni ho cercato di sdrammatizzare per sopravvivere a questo tragico evento che l'ha vista perdere la vita prima di aver compiuto 53 anni, per cui effettivamente la perdita di memoria è un problema che mi sta molto a cuore, ma vi svelo l'arcano, al di là del caldo che di nuovo è esploso, della stanchezza, ieri è stata una giornata particolarmente impegnativa e anche i mercati, vi garantisco, non aiutano in questo momento a rimanere sereni perché ci sono state delle situazioni di cui ci occuperemo tra poco davvero singolari, fortunatamente, ma oggettivamente anche inaspettate, semplicemente come avrebbe detto un tempo Totò il qui pro quo è perché normalmente faccio classe il giovedì, come sapete e avendolo fatto di mercoledì probabilmente il mio cervello non è abituato a riconoscere che c'è stata questa variazione perché ho sempre mille cose a cui pensare, quindi quando questa mattina ho registrato il video di preapertura ho pensato fosse venerdì perché avevo fatto il giorno prima classe in BC, poi il giovedì è una giornata a me molto cara perché dovete sapere che c'è il mercato settimanale a Bordighera lungo tutta la passeggiata mare che chi non l'ha mai vista meriterebbe sicuramente di andarci. Vi condivido subito lo schermo perché vi dicevo la situazione è abbastanza critica, non tanto per quello che stanno facendo gli indici, quegli americani sono in una bolla, ma non bolla che scoppierà, cioè nel senso in una bolla vivono nella loro dimensione, non c'è più nulla, anche questo dato che guarda molto la Fed, il CPI è uscito peggio delle stime, però le borse in America stanno tenendo. In Europa hanno fatto sicuramente più fatica, soprattutto il mercato azionario italiano e il mercato azionario francese, ma è sui singoli temi, sulle singole storie che abbiamo assistito a situazioni clamorose. Partiamo comunque dal Dow Jones, al momento shooting star quasi, gravestone, doge informazione, ma ripeto, rimane sempre valido quello che vi ho detto, trading range 38,727, 39,5 e 71, perché mi dà l'idea che le medie mobili, questa a 100, 38,8 e 49 e quella a 50, 38,8 e 40, facciano ancora da supporto. Standard & Poor's 500, anche qui abbiamo una sorta di trading range, ma più che altro una shooting star quasi gravestone doge, come per il Dow Jones, massimo 5.490, adesso sta ritracciando, il primo livello importante però è 5.447, minimo 24 di giugno, sotto si va a 5.420, poi 5.402, minimo 13 di giugno, eventualmente chiusura gap sul massimo dell'11 di giugno a 5.375. Nasdaq invece è sicuramente meglio, il Composite oggi ha fatto un massimo intraday 17.892 e sembra voler tornare sui massimi storici del 20 giugno a 17.936, Nasdaq 100 meno bene, però massimo a 19.850, non distantissimo da quello storico del 20 giugno di 19.79, il Russell prova a rimbalzare ma rimane ancora sotto le medie mobili a 50.0035 e a 100.0038, per cui rimane valido il trading range 1993-20.43. Europa, DAX tutto sommato in tenuta, candela inside, massimo 18.265, chiusura 18.210 e vedete che siamo ancora nel trading range compreso tra 17.951 e il massimo di ieri che è 18.363. Ha sofferto sicuramente di più il caccarant perché oggi ha perso nettamente di nuovo la media mobile a 200, 7.619, ha chiuso a 7.530, però io continuo a pensare che per il momento, certo nel weekend ci sono le azioni francesi, il range 7.464-7.725 possa tenere Eurostox. 50, situazione anche qui tutto sommato molto simile a quella del DAX, abbiamo un trading range compreso tra 4.883 e il massimo di ieri 4.975 e la candela di oggi è una candela inside con range anche piuttosto stretto, massimo 4.935, minimo 4.897. Anche l'Eurostox Bank sta andando a cercarsi la media mobile a 100, 136.1, poi c'è questo minimo piuttosto importante del 21 giugno che è 134.84, ma direi che vale ancora il trading range tra 184.84 e 139.38. Fuzzimi Futures, rottura della rialzista di breve, perdita della media mobile a 100, 33.5 e 53 e prossimi obiettivi 33.285, 33.215, 33.175 e 33.080. Sicuramente la media mobile a 50, abbiamo visto che nelle tre sedute precedenti ha respinto il rimbalzo del Fuzzimib, c'è da dire che i volumi sono piuttosto modesti al vero di contratti FIB perché siamo poco sopra 10.000 contratti, mid cap doji con range strettissimo 46.795, 47.028, non deve perdere 46.731 per non tornare a 46.325 e poi a 46.055, sicuramente meglio il Fuzzistar perché rimbalza dalla media mobile a 147.295, il minimo in 3D è stato 47.293 ma poi ha chiuso sui massimi di giornata a 47.538 per cui potrebbe iniziare un trading range compreso tra 47.285 minimo di ieri perché quella di oggi è candela inside e potrebbe fare da benchmark per il breve la candela di ieri 47.285 48.003. I volumi continuano a essere deludenti, vedete 2 miliardi 188.00 se non fosse per gli scambi in asta finale mi ha mandato prima il dato preasta Renato 583 milioni scambiati nelle aste finali quindi i volumi sono ancora molto bassi e per questo che io mi sono preso alcuni rischi. Che rischi mi sono preso? Di essendo piuttosto liquido e avendo una posizione short sul Fuzzimib a protezione del portafoglio ho voluto mantenere anche quelle due o tre situazioni critiche che ho nel portafoglio che sono Elen, Italgas e Tenaris. Tenaris ha chiuso praticamente come weighted price proprio sul supporto in realtà ha chiuso sotto poi lo vedremo tra poco e in Hafter adesso stava perdendo a chiuso sotto 14 addirittura a chiuso 13.94. Elen è anche lì a giocarsela sul supporto. Italgas mi darò uno stop a questo punto sotto 4.52 però ho voluto aspettare domani per due motivi. Primo perché sono tre quattro giorni vedete che dopo la scadenza tecnica quattro giorni che i volumi sono davvero modesti. Secondo c'è la chiusura settimanale per cui domani è probabile che se questi titoli faranno ulteriore accelerazione a ribasso, Elen potrebbe ancora provare un rimbalzo su Tenaris e su Italgas sono un po' più dubbioso, io ovviamente provvederò a chiudere le posizioni. Adesso andiamo a analizzare il nostro Fuzzimib e noteremo subito che sono molto pochi i titoli che ci sono tra quelli positivi. Allora vi dico molto tranquillamente che il titolo migliore è stato Bruno Cucinelli per una situazione abbastanza fortunata per quanto mi riguarda per chi ho ancora Bruno Cucinelli, sono ritornato in guadagno dopo la seduta di oggi perché c'è stata una seduta con un doppio volto sul settore lusso, perché se Bruno Cucinelli ha fatto questo movimento così interessante perché ha beneficiato di questa alzata di target di Stifel a 115, ovviamente bisogna però considerare che Moncler ha avuto un target price da parte di UBS abbassato a 71 da 78 e ha generato più di tutti un vero e proprio terremoto perché altre motivazioni non ho trovato è quello di sempre di UBS, Salvatore Ferragamo da 9 e mezzo a 9, addirittura Salvatore Ferragamo ve lo farò vedere tra poco ha perso addirittura i propri minimi storici, io ho provato in 3 day ci ho anche perso ho provato un long incontrottendenza, stavo anche guadagnando, sono arrivato a guadagnare poco più di 100 euro poi ho chiuso con poco più di 200 euro di perdita perché quando un titolo fa nuovi minimi storici è giusto chiuderlo, sento da più parti dire ma Ferragamo è cara, è vero ma non è a questi prezzi tanto più cara rispetto a quello che è valutato a Brenlo Cucinelli e comunque Ferragamo a fine 2023 ha una cassa superiore ai 200 milioni di euro che Cucinelli non ha, per cui io oggi mi sono chiuso però Ferragamo vi invito a seguirla perché è un titolo che se continuasse a scendere secondo me verrà venduta magari a premio io ho quello che ipotizzo da sempre che Caring, Louis Vuitton, Prada stessa ma qualunque società che capitalizza molto di più perché ormai dovremmo essere sotto il miliardo e mezzo, miliardo e due, miliardo e tre per Ferragamo Vuitton vabbè proprio è il famoso un sol boccone però anche un'azienda come Caring che escludo al momento perché le sue difficoltà comunque vale quasi 20 volte la capitalizzazione di Ferragamo quindi il discorso è molto semplice un OPS a premio possiamo tranquillamente aspettarcelo. Veniamo però a Brunello Cucinelli Brunello Cucinelli oggi fa un massimo di breve a 97.55, chiude a 97.05, lascia un micro gap aperto a 94.2 sul massimo di mercoledì, media mobile a 100 prossimo obiettivo che è proprio in area 100 e quindi il massimo del 18 di aprile che è 103.2. Andiamo invece a vedere Moncler perché Moncler purtroppo vedete che oggi ha fatto una brutta engulf in bearish, volumi per questo engulf in bearish non così significativi, massimo intradale 59.14 chiusura a 57.18, la media mobile a 200 passa a 58.51, stop imprescindibile sotto 56. Andiamo a vedere invece Salvatore Ferragamo, così diamo una linearità e le vediamo tutte. Salvatore Ferragamo purtroppo oggi perde prima questo livello importante di 8.63, minimo 17 di giugno, poi se andiamo a prendere addirittura un mensile, vedete che il minimo storico precedente era quello di ottobre 2011, 8 e 10. Quindi per chi, solito discorso, chi ha ambizioni di fare degli investimenti in azioni, non più che un hobby remunerativo o chi ha capitali veramente importanti alle spalle e ha investito sul titolo il 5% del proprio capitale, se oggi non ha voluto chiudersi non sto a giudicare. Però io, che come vi dico spesso, devo vivere i trading, devo prendermi i miei stop, io ho preferito chiudere anche perché c'è stato un bel picco di volumi. Ovviamente vi ribadisco quello che vi ho detto prima. Ferragamo scende ancora domani, dopo domani, lunedì scusate, va a 7 euro. Secondo me è un titolo che ragionevolmente può essere comprato a 10 euro per azione. Non sono un insider, è una mia opinione personale, però mi dà l'idea che il brand rilanciato da un marchio primario del lusso mondiale, 10 euro di offerta li trova. Ecco, questa è la mia personalissima idea. Poi, ripeto, ragionate sempre con la vostra testa perché non posso darvi purtroppo dei veri e propri consigli finanziari. Su Saipem ho avuto una buona lettura, il titolo prosegue a rialzo, siamo ormai vicini al target che vi avevo indicato, 2,41 e 1 e poi c'è il massimo di periodo del 15 di aprile, 2,47 e 1. Contraltare Tenaris. Tenaris, vedete che oggi effettivamente io perché ho voluto ancora tenere? Perché comunque non è una rottura evidentissima. Il weighted è praticamente sui 14,10 che è il prezzo del mio stop. Io continuo a capire poco perché Saipem sia così comprata e invece Tenaris sia così venduta perché, ripeto, abbiamo avuto la querelle simpatica con Vincenzo che giustamente mi ha ricordato che io avevo parlato di una posizione finanziaria in età positiva esagerata perché io facevo già, e l'ho scritto anche risposta a lui, riferimento al fatto che nello scorso anno, anzi l'ultimo anno e mezzo, mediamente Tenaris è riuscita ogni trimestre a generare un flusso di cassa positivo per circa 800 milioni, mediamente. Quindi vuol dire che se a fine marzo 2024 aveva una cassa per 3,9 miliardi, ipoteticamente a fine anno questa cassa potrebbe anche superare i 6 miliardi. Poi è ovvio che bisogna detrarre tutto quanto ha speso per il buyback, però è una cassa veramente importante. Saipem ancora mi pare 220 milioni di debito e pur giudicando il 2024, ovviamente per Tenaris, sarà una azienda che barrà 8-10 volte gli utili, in ipotesi peggiore. Saipem a fine 2023 mi pare fosse 23-24 volte gli utili. Il mercato ha sempre ragione, però queste situazioni così difficili da leggere ve le devo ovviamente sottoporre. Sorprende sempre la resilienza di Amplifon perché Amplifon ha comunque ancora avuto la forza di rimbalzare anche oggi recuperando la media mobile a 50, 33.31 chiudendo a 33.68. Qui abbiamo un trading range compreso tra 32.7 e 35.14. I segni positivi sono pochi, un ammerino qui su Interpump che conferma la volontà di tenere almeno il range 40-28, 42-74, una resilienza non da poco di poste che sta provando a lateralizzare dopo lo stacco dividendo, vedete che comanda la candela del 24 di giugno 11,805, 12,11. Siamo già a tre sedute con candela inside rispetto a quella del 24 di giugno, qui dobbiamo aspettare se decidi di rompere a rialzo o a ribasso. Anche Eni comunque pur facendo una shooting star quasi gravestone doji a mio avviso sta provando a tornare prima sulla media mobile a 50, 14.56, media mobile a 100, 14,612 e poi 14,694, massimo 3 di giugno. Sdam sta provando a fare base anche qui dopo lo stacco dividendo, oggi in realtà ha fatto una spinning top con un nuovo minimo di periodo a 4,11,3 però Sdam qualche possibilità ce l'ha per farvi vedere Italgas, oggi invece accelera bene a ribasso e vedete che ho evidenziato come il punto di ritorno anche per me perché ho il titolo in portafoglio è 4,52, minimo seconda settimana di ottobre del 2022. Poi facciamo ancora Prismian che anche qui deve decidere se tornare in area poco sopra la 60, 60.24 oppure testare i 55.42 minimo del 14 giugno. Diciamo che pur muovendosi molto bene a livello internazionale leggevo prima che c'è stata una dichiarazione di Massimo Batteni che è l'amministratore delegato durante questo evento sulla sostenibilità, dice non faremo più grandi operazioni di Merge and Acquisition nei prossimi due anni e mezzo perché dovremmo concentrarci sulla riduzione del debito a 5 miliardi di Euro, comincia a essere un debito leggermente molto importante e quindi non capisco come sia ancora lassù perché uno storno sarebbe assolutamente fisiologico. Chiudo con di Assoli e poi passiamo ai peggiori perché oggi ha fatto un nuovo minimo di periodo a 92.58, ha chiuso a 93.48, primo obiettivo 91.28 e poi media mobile a 200 ovvero 90.68. Adesso andiamo a vedere i titoli invece che hanno fatto peggio e purtroppo ce ne sono davvero tanti, al di là che vi ho già fatto vedere Italgas e Tenaris che comunque hanno avuto una seduta soprattutto Italgas piuttosto negativa. Adesso andiamo proprio a vedere invece quelli che hanno fatto decisamente peggio. Dobbiamo cominciare da Stellantis. Allora, per quanto riguarda Stellantis, io credevo che potesse, quando io mi stoppo ultimamente, poi i titoli rimbalzano, però io continuerò a stopparmi perché debbo, tengo famiglia, già campà. In realtà non ha dato una rottura proprio devastante a ribasso. Guardiamo un attimo nel serale, cosa ha fatto? Ha chiuso 18.52.6. Probabilmente oggi l'avrei tenuta ancora e avrei aspettato domani per decidere perché vedete 18.55.6, minimo 14 di giugno, 18.54.4, chiusura di oggi dopo un minimo 18.47.6. Qui la notizia è che c'è stato praticamente un giudizio tagliato da parte di Equita che ha ridotto anche il target price a 22 da 24.5, il giudizio è da buy a hold ed è uscita dal portafoglio di Equita Stellantis. Il rischio è che se dovesse iniziare a accelerare a ribasso può arrivare fino a 17.78, 17.63.2. Poi proseguiamo con Campari. Campari oggi, poi è andata dove doveva andare sostanzialmente, io vi avevo indicato 8.83.6, ha fatto 8.88. Però attenzione, l'ho fatto in maniera anomala perché il titolo è aperto in gap da 1.903, è andata a chiudere il gap e poi è cominciata a scendere, c'è la storia dell'indagine di cui vi ho già parlato da parte della procura di Milano per evasione fiscale superiore al miliardo di Euro, la società ha chiarito con un comunicato che nella società di Campari e alcune delle sue società controllate sono oggetto di indagini, la notizia in realtà riguarda l'hold in lag fin azionista di riferimento di Campari. Comunque in ogni caso il rischio è che il titolo possa arrivare fino a questo minimo di cui vi avevo già fatto vedere la candela mensile, ovvero ottobre 2022 8,61. Adesso proseguiamo con Ricordati, Ricordati oggi ha chiuso praticamente poco sotto la media mobile a 248.38, ho chiuso 48.36, io ho il titolo e continuerò a mantenere fino a che non dovesse perdere 47.28. Banche oggi più vendute che comprate, Montepaschi sta tornando verso la media mobile a 104,304, poi c'è minimo 14 di giugno 4,169. Oggi anche intesa è stata venduta, ha trovato difficoltà nelle ultime sedute a stare sopra la media mobile a 50, per cui primo obiettivo in questo caso 3,41,75, 3,40,65 e poi 3,39,7. La media mobile a 100 è 3,32,5. Ferrari, Ferrari oggi perde media mobile a 50, 385,5, media mobile a 100, 384,25, chiude a 3,83,4 e punta a un ritorno a 3,77,5 e poi a 3,72, eventualmente 3,69,4. STM per il mio amico Maurizio che gli prudono sempre le mani. Io vi ho già detto che è vero che il minimo dello spike di martedì a 35,245 potrebbe anche essere un minimo di periodo, però vi ho anche detto che aspetterei sempre la debolezza, domani c'è un primo livello importante proprio in area 36, poi c'è il doppio minimo sporco 35,245, poi 35,1, il famoso minimo di periodo del 26 ottobre dello scorso anno. Andiamo a vedere però cosa succederebbe nel caso perdesse anche 35,1, vedete che poi lo spazio di discesa diventa molto ampio perché il primo obiettivo è il minimo della prima settimana di gennaio 2023, 33,17. ERG continua il trading range di cui vi avevo già parlato ieri, compreso tra 23,42 e 24,5 per cui bisogna ancora aspettare. Facciamo ancora Unipol che sembra voglia iniziare una fase di distribuzione con primo obiettivo 8,98 e mezzo, poi media mobile a 50, 8,95, poi il minimo 14 di giugno 8,72 e mezzo. Tra i titoli che mi chiedete di più c'è sicuramente Biper, Biper la vedo leggermente meglio perché finché non perde la media mobile a 50, 4,78,2 può tornare a 5,04 e poi a 5,12,2. E facciamo un altro titolo che mi chiedete tanto, Banco BPM che invece sembra voler tornare prima sulla media mobile a 100 che è 5,98, in realtà c'è questo minimo 21 di giugno 5,98,8, poi 5,95,8, 5,84,8, 5,76, minimo 14 di giugno. Adesso andiamo al di fuori del Fuzzimib e cominciamo da Morrif, perché Morrif comunque è un titolo che ha fatto peraltro di recente nuovi minimi storici, però pur scambiando dei controvalori piuttosto limitati ha sicuramente la possibilità adesso di rimbalzare in maniera abbastanza significativa. Primo obiettivo la media mobile a 100,041,9, poi direi che si può arrivare fino a 0,041,9, 0,0,45,6 massimo 25 di marzo, poi media mobile a 200,0,04,6,2. Saffilo, grande protagonista oggi, questo era un po' imparabile come colpo perché è vero che è uscita la notizia della probabile rinuncia all'acquisizione di Marco Lin, però il titolo graficamente era avviato a testare la media mobile a 200,1,006 e poi sul minimo del 30 di gennaio 1,002 e quindi minimo del 29 di gennaio 0,95,6. Obiettivo di questo rimbalzo, sicuramente l'incrocio delle medie mobili a 50,1,14 e a 100,1,14,6. Quindi continua il momento positivo di Racing Force dopo la BB a premio, oggi addirittura massimo a 4,33 a chiusura a 4,30, obiettivo che a questo punto diventa area 4,50 perché questo massimo del 13 di marzo è 4,49, poi io continuo a capire poco come Newlat continui a essere sempre così comprata, nuovo massimo storico a 12,88, chiusura a 12,76, raccomando chi avesse ancora il titolo di proteggersi con uno stop profit sotto 12,08. poi Expert AI, io come sapete finché non viene completato o meglio finché non parte l'aumento di capitale per il momento sto solo guardando il titolo e non ci sto operando, oggi fa veramente un rimbalzo importante, è vero che è stoppata dalla media mobile a 50, 1,23 e 73 però chiude poi a 1,22 può tornare a 1,28, poi sulla media mobile a 100, 1,33 e 5 e poi sul massimo del 3 di maggio 1,38 e 8. Eurogroup lamination, qui sono stato bravo perché vi avevo detto che nonostante al ribasso di ieri non vedevo ancora una battaglia persa quella su Eurogroup, quella di oggi è praticamente un engulfo in Beri, schiude sopra la media mobile a 50, 4,076, massimo 4,13,8, poi chiusura a 4,12,2, primo obiettivo 4,18,4, poi 4,29, quindi 4,32. Fatemi verificare, sì, allora volevo vedere se effettivamente oggi aveva scambiato a terra la 57 mila pezzi che per terra non sono pochissimi, bella situazione perché massimo in 3,2,20, chiusura 2,16, obiettivo almeno 2,28 però direi che si potrebbe anche arrivare fino a 2,36 massimo 24 di luglio. Poi attenzione a Defense Tech perché zitta zitta diciamo che sta un po' mettendo alle spalle la fase di crollo che è avvenuta con la famosa cola 2,44 pubblicata, comunicata al mercato, eserciata a parte di T-nexta il 21 giugno, sembra che per il momento il titolo si stia muovendo in un range che è determinato dalla candela il 24 giugno, 3,22, 3,63, se rompesse 3,63 può tornare addirittura a 3,90. Volumi bassi però si può fare anche con un lotto minimo, voglio dire, però vedo sempre che interessa per il momento il mercato Simone può tornare in area 1,90 e poi sul massimo del 7 di maggio che è 1,98. Sembra non fermarsi più WIT, WIT nuovo massimo di periodo 22,25, una bellissima Marubazzo White 21,3, 22,25, andiamo subito su time frame settimanale per vedere che a questo punto l'obiettivo a mio avviso diventa 23 massimo della prima settimana di giugno del 2022. diamo uno sguardo anche a SOMEC che mi pare fosse uscita una commessa e titolo che qui sta caricando, SOMEC sta provando a COMET che qui a Bologna ha grande distribuzione di materiale informatico, telefonie, 17,05, poi veramente si apre un'autostrada, il titolo potrebbe arrivare addirittura fino a 22, quindi questo è un altro titolo a mettere in watch list. Ho letto velocemente che Circle ha lanciato un aumento di capitale, però oggi il titolo è stato ricoperto, però questa è una candela, non l'ha fatto, aspettate questa è sbagliata come candela, perché ha fatto un massimo 8,50. Comunque guardiamolo il titolo, però chi lo segue tenga conto che a mio avviso un ingresso ottimale è non prima di 7,50 e bisogna capire bene poi, io non ho avuto tempo di leggere in maniera approfondita questo aumento di capitale, come si svolgerà, ho letto solo che il prezzo sarà non inferiore al prezzo medio ponderato negli ultimi 12 mesi. SOL continua sempre a piacermi tanto come azienda principalmente, però sembra che voglia già rimbalzare da 30,3 e tornare in area di massimi storici, i massimi sono stati sul massimo del 3 di maggio a 36,35, anche Mayer si è comportata piuttosto bene oggi, Mer Technimont, perché, ecco ho messo scusate il settimanale, facciamo col giornaliero per SOL che si vede meglio sul giornaliero, perché il trading range è questo in realtà, il trading range è 30,3, 33,6, infatti mi sembrava. Mayer Technimont, bene, anche se chiude proprio sulla media mobile a 50,7,44, l'idea è che possa tornare prima a 7,70 e mezzo e poi a 7,76 e mezzo. Zignago Vetro è uscito anche il solito internal dealing di Stefano Marzotto che compra con regolarità, io vedo ancora il titolo nella possibilità di tornare prima a 12,34, poi a 12,46, quindi media mobile a 100 che è 12,64 e 4. Buzzi che stava venendo da una fase di correzione oggi per rimbalzo ma comanda ancora la candela del 21 di giugno 36,2, 37,98. L'UVE, per carità, ben rimbalzino oggi però al momento massimo che possiamo, a cui possiamo ambire in positivo è il mantenimento del trading range compreso tra 25,4 e 26,9. Adesso passiamo nella categoria dei peggiori, vi ho già fatto vedere purtroppo Salvatore Ferragamo e quindi ecco questo per esempio sono le situazioni che mi fanno maggiore rabbia che Trend Device perché è vero che ha fatto un nuovo massimo a 0,28,4 però dopo che ieri mi fa più 12, oggi mi fa meno 7, è vero, con volumi leggermente inferiori però mi riperde media mobile a 200, 0,26,42, media mobile a 100, 0,25,81, chiude in realtà sulla media mobile a 100, quindi per il momento sarà nuovamente trading range tra 0,24,9 e 0,28,4. Attenzione sempre a Portobello perché Portobello purtroppo continua a scendere da qualche seduta, ha raggiunto il primo target di 5,92, minimo 16 di maggio, poi abbiamo minimo 29 di aprile 5,54. Volumi non elevatissimi ma vendite abbastanza significative su P quadro, oggi chiude praticamente sulla media mobile a 200 perché chiude a 2,10, media mobile a 200, 2,098, primo obiettivo 2,06, poi incrocio delle medie mobili a 100, scusate 2,0,164, media mobile a 50, 2,006. Ariston, vedete, io come sapete ho stoppato Ariston qui, ok, qui, a 4,36,2. Poi magari il titolo adesso rimbalzerà e chi non si è chiuso tornerà addirittura in guadagno, però io mi stoppo, mi prendo le perite proprio per evitare le situazioni all'Ariston, questo è quello che io intendo dire come gestione della posizione. L'Andi Renzo, comunque anche oggi nuovo minimo storico e chiusura praticamente sui minimi. L'Andi Renzo, anche L'Andi Renzo è un titolo che è a rischio di tornare sui minimi storici, vi avevo già fatti vedere, 0,2324, minimo di novembre 2016. Alerion, brutta rottura di Alerion, Alerion nonostante sia già scesa molto oggi ha fatto una bruttissima rottura perché è chiuso a 16,64, direi che il target a questo punto diventa 15,34, minimo terza settimana di ottobre 2021. Vedete quanto ha perso Alerion dai massimi storici della seconda metà del 2021, è come se avesse perso praticamente due terzi del suo valore. Quindi quando vi dicono che in borsa il timing non conta, è famosa, è una citazione, mentono sapendo di mentire. Pasquarelli, almeno per noi comuni mortali, poi se avete alle spalle i patrimoni da multimilionari, potete anche aspettare. Pasquarelli, vi lo voglio far vedere perché mi sembra che abbia esaurito il suo movimento con la Shooting Star del 24 di giugno, 1,25, chiusura 1,16, adesso deve tenere assolutamente 1,05, se no può tornare sulla media mobile a 200, che è 0,95, e 3. Attenzione anche a Usai perché sembra voglia tornare in area di minimi storici e mi riferisco a 0,96, 2, c'è prima 1,0,99, 2, 0,98, però massima prudenza. Poi continua la fase di sell off su Sicily Buy Car. Nonostante ci sia un buyback da parte della società e nonostante ci sia Tommaso Dragotto che compra regolarmente tutte le settimane, il titolo è destinato al momento a ritestare 4,70 al minimo 21 di marzo, poi rimangono i minimi storici del 20 di marzo, 4,26. Attenzione anche, pur scambiando pochissimo, ve lo devo far vedere a Udisse e Biomed perché potrebbe anche, andiamo a prendere un mensile direttamente, qua 1,045, 1,056, andare a perdere i minimi storici che sono stati a 0,97 gennaio 2023. Oggi è stata venduta i Vision Tech, io considero ancora il titolo a rischio di distribuzione, ne avremo la conferma sotto 1,83 con obiettivo, come vi ho già detto in tempi non sospetti, 1,63. Bruttissima Industria Denora, Industria Denora purtroppo ha rotto ulteriormente a ribasso, sono nuovi i minimi storici, è vero che non è una rottura nitidissima, però il discorso ve l'ho già fatto più di un'occasione, era un titolo che si poteva anche provare, ma poi quando un titolo perde i minimi storici ci si chiude. Adesso sembra arrivata anche Calta Gironitore, primo obiettivo è 1,27, poi 1,24 e mezzo, 1,24. Pozzi Milano, vediamo che dopo i movimenti piuttosto interessanti delle ultime sedute sta tornando già in area 0,50 e non sono distantissimi i minimi storici a 0,48,2. di Italian C Group, Italian C Group potrebbe tornare sul minimo del 19 di aprile 9,03 e poi sulla media mobile a 200, ovvero 8,85 e 1. Fidia, penso che però sia, nonostante il ribasso di oggi, rimasta ancora nel trading range, addirittura è candele inside, quindi non cambia il giudizio che vi avevo già dato, sotto 0,62 può accelerare fino alla media mobile a 50, 0,59,2, poi minimo 21 di maggio 0,56,2, ma è ancora nella possibilità di rimbalzare fino a questo massimo di 0,72,8, media mobile a 200, 0,75 e 9. Altro titolo che guardavo oggi che è in una fase di correzione piuttosto importante è Sabaf. Sabaf, vedete che oggi picco di volumi, perde la media mobile a 200, 16,48, e potrebbe arrivare fino a 15,6 minimo 21 di dicembre. Banca sistema, anche banca sistema ha purtroppo un'impostazione tecnica abbastanza pericolosa se dovesse perdere area 1,40, allora a quel punto tornerebbe quasi sicuramente sulla media mobile a 100, perché è vicissima, 1,38,8 e poi sul minimo del 2 di maggio 1,33,6. Ecco, anche diretta bisogna fare attenzione perché anche qui ci sono delle indagini in corso sull'operato del recente passato quando prestava soldi a istituti bancari in difficoltà, quantomeno c'è un'indagine e peraltro come Campari ha smentito, anche Dottor Segre ha smentito professando una tranquillità, ma sono anche poi frasi di circostanza. Comunque il titolo è impostato per tornare sul minimo il 21 di marzo che è 3,35. Ascopiave, l'altro giorno era stata anche comprata, infatti ieri era, quindi non capisco questa Long Black, massimo 2,31,5, chiusura 2,26, perse nuovamente, media mobile a 100, 2,301, media mobile a 50, 2,27,7, però in realtà qui c'è la possibilità di tornare a testare i massimi di periodo di 2,32,5 e poi addirittura andare fino alla chiusura gap da dividendo, da stacco dividendo che è 2,43. Volumi bassissimi, però prima abbiamo visto l'editore, adesso guardiamo l'ordinaria, mi riferisco a Caltagirone e oggi ho accusato il caldo, 5,60, 5,58, ma direi più tranquillamente, media mobile a 50, 5,39, 2, poi minimo 13 giugno 5,36. Vediamo se c'è ancora qualcosa da vedere di interessante. Perdonate ma ci mette un po' più del solito a caricare la pagina, se no posso prenderne anche qui da la sfera di là, ma comunque dobbiamo fare ancora Sogefi, Sogefi purtroppo sta ritracciando dopo la notizia dello stacco dividendo straordinario, 3,035, primo obiettivo, poi media mobile a 50, 2,94 e 15, media mobile a 100, 2,85 e 1. Maps, mi pare che siamo in esercizio warrant, ultimo esercizio, quindi ci sarà magari un po' di turbolenza, il titolo potrebbe tornare prima 2,34, poi 2,28, quindi 2,24, minimo 16 di aprile. Non essendo in una fase così brillante come ci avevano abituato a vedere le banche, anche Credem potrebbe ritracciare leggermente, oggi chiude sotto la media mobile a 100, 9,33,8, primo obiettivo a 9,10, poi 8,88, 8,74, media mobile a 200, 8,67 e 4. Antares Vision per me prosegue quella fase di distribuzione di cui vi ho già parlato, primo obiettivo che era avvicinatissimo è la media mobile a 53,073, poi si va a 2,98, 2,96 e mezzo, anche 2,91. Vi dicevo di Redelfi, è vero che i volumi sono molto modesti, però comunque l'idea è che possa correggere fino a questo minimo del 23 novembre che è 4,80 e poi eventualmente 4,48. Invece ha fatto un movimento incredibile al TEA perché ha fatto uno spike ribassista, è stata sospesa per scostamento e praticamente ha rimbalzato in maniera importante, l'intra del ha perso anche la media mobile a 200 che vedete qui sotto a 6,801, anzi 809, ha fatto un minimo a 6,65 però poi ha chiuso la di tour a 7,15. Quindi sicuramente al TEA di breve meglio di Redelfi. Facciamo ancora intercosse, che sembra voglia tornare nella parte bassa del range per cui abbiamo un 15,14,86 poi media mobile a 50,14 e 83. E quindi concludiamo con Tecnoprobe che io è un altro titolo che non capisco come possa ancora stare qui perché ha dei multipli veramente da Nasdaq, 8,84 e mezzo, poi media mobile a 108,66, scusate media mobile a 108,75,8, media mobile a 50,8 e 66, quindi 8,55 minimo del 20 di maggio. Considerato che oggi pensavo fosse venerdì non è andata neanche poi così male. Ovviamente vi saluto carolosamente e ci rivediamo domattina prima dell'apertura del mercato diurno. No. ... ... ... ... Grazie a tutti.